La Cosa di Giuseppe che è più di un anno che il campetto è chiuso, i bambini dovevano ancora aspettare. La prossima volta non pigliate iniziati, venite a dove. Tu sai che qua la situazione è complicata, quindi mantieni l'equilibrio. Io sono qua per aiutare la bambina, aiutare anche te, ma ti devi fidare di me. Quando si affrontano certi temi bisogna essere certo delle scelte che si faranno. Sicuramente! Sicuramente! Ma quando siete venuti in tuo quartiere mio, mi avete creato solo un biglietto a randello. Ma perché non fate un indagino? Non alzi la voce, provati quello che dice, non ce ne sono. Ritrova la moderazione, l'equilibrio, so che puoi farlo. Dovete fare solo quello che dovete fare, fate sacerdote e basta. Dani, ma se vi manco in chiesa a pregare, sta agendo poco a fine fa. Riuscirà il nuovo trailer ad entrare in classifica? Al decimo posto, la battaglia dei sessi. Al nono posto, Black Panther. All'ottavo posto, Justice League. Al settimo posto, Thor, Ragnarok. Al sesto posto, Valeria nella città dei mille pianeti. Al quinto posto, Kingsman, il cerchio d'oro. Al quarto posto, Ready Player One. Al terzo posto, Star Wars, gli ultimi Jedi. Al secondo posto, Dunkier. E al primo posto, ancora lui, Hit. E questa è la classifica aggiornata. Per vedere se la classifica cambierà, non perdetevi i prossimi trailer. E per saperne di più su questo film, visitate il nostro sito, blog.screenweek.it. Ciao!